Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla Allora ragazzi, nello scorso episodio vi ho fatto vedere il funzionamento della farm di lana colorata e oggi andiamo a vedere qualche modifica che ho fatto Prima di andare lì però, volevo sistemare il mio arco perché ha solo 113 utilizzi e quindi andiamo appunto sopra all'anvil e la sistemiamo E lo sistemiamo, vai, arco power, 27 livelli, vai, 27 livelli per il nostro arco Poi ho anche i pantaloni rotti con 11 utilizzi che andremo a cambiare con questi, oh buoni Protection 3, vai, mettiamoceli, questi cacchi e questi ritornano là, bravo Mi sa che qua è tutto rotto, vero? Questa è rotta, questa è rotta Ok, mi sa che devo sistemare questa armatura qua, lol Ok, andiamo dalle pecore così vi faccio vedere cosa ho fatto off camera Sono andato a mettere gli stone brick come pareti E quindi adesso vi faccio vedere come è uscito fuori Ho optato per gli stone brick perché naturalmente sono i blocchi più epici a livello estetico E quindi ecco qui la facciata, tutta con gli stone brick, poi andiamo dietro, anzi andiamo dentro e ecco qua tutto il stone brick Mentre il soffitto è tutto in storno Intanto controllo puro, ho controllato più volte però non ci sono altri blocchi, giusto? Fatto tutto a storno? Ok, perfetto Mentre per terra lasciamo così la terra perché ci serve la terra con l'erba E quindi ok, perfetto, farm di lana completata al 100% possiamo dire E poi qua la lana continua ad arrivare perché comunque ho passato un po' di tempo qua e quindi ho anche preso un po' di lana dalle nostre pecorelle Ora, 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 andiamo a casa perché, perché devo andare a fare un bello strumento Quindi ci vediamo tra poco L'oggetto che dovevo prendere sono tre mappe perché mi servono per aggiornare appunto la mappa che abbiamo sulla balconata Quindi ne facciamo tre anche se in realtà me ne servono due però noi magari se sbagliamo ne abbiamo una in più Quindi adesso andiamo a vedere sulla balconata qual è, anzi quali sono le due parti che mi mancavano Anche se non mi ricordo quando avevo fatto quella centrale Adesso vi faccio vedere il tutto Quindi saliamo qui Saliamo qui, saliamo qui Bottone E entriamo Perfetto, allora Ah sì, per fare la città dei villager Ok, quindi ci manca questa in alto e quest'altra Ok, ok, ok Quindi andiamo prima in alto perché in basso c'è l'oceano laggiù Vabbè andiamo a fare prima quella alta va Ok Fatemi controllare un attimo Andiamo Ok, ok Mi sto vedendo bene la zona perché non vorrei spiegare una mappa così random Quindi Quindi, quindi scendiamo di ignoranza qui Andiamo Al di là della città E così in teoria con la mappa questa qui Dovremmo prendere la pagoda Perché qua c'è la zona in Nevada, sì, in teoria sì E non so se riesco a prendere pure le pecore Probabile No, forse le pecore È di quella centrale Vai Vediamo un po' Andiamo ancora un po' più avanti E così possiamo vedere la nostra mappa Andiamo più giù Dovebbe bastare qua Però noi Siamo prudenti E quindi andiamo un po' più avanti Ok, vediamo un po' Ok, perfetto Ecco qui la nostra pagoda Con il suo Con la sua scalinata Ok, perfetto Andiamo A sistemarla Sulla nostra Sulla nostra mappa È epica però Lol Ok Vediamo un po' E poi Dobbiamo fare la parte sotto Che invece c'è l'oceano Quindi dobbiamo prendere una bella barchetta Quindi torniamo alla balconata Ok Mappa della pagoda Messa In teoria Se noi rompiamo Questa E la aggiorniamo Ci va a vedere pure le pecore Quindi adesso Ok Una sorpresa Vediamo un po' No È quella sopra allora È questa sopra Ecco Dove è andata? Eh Io lo sapevo che succedeva Perché queste mappe Sono buggate Davvero tanto E quindi non so adesso Dove è andata Adesso vado a vedere Se sta sopra il monte Ho capito Perché Si buggano in una maniera Clamorosa Quindi adesso Non la posso trovare Da tutte le parti Però vado a vedere Dove sta l'entrata Perché Forse sta lì Intanto Non è questa Quindi questa Possiamo anche rimettere Vediamo un po' Se sta qua in giro Sei qua in giro Sei qua in giro Fuck Non c'è Allora sai che facciamo? Sai che facciamo a questo punto? Dato che abbiamo una mappa in più La utilizziamo Quindi prendiamo questa E facciamo Così What? Ehmè? Guardate Ah Ok Vedo le pecore Eh certo Sono quei segnalini Bianco e blu Che vedete lì al centro Eh vabbè È vero Perché è dall'alto Comunque non Da davanti Ci sono rimasto male Mi sono rimasto molto male Vai Apriamo Ok Non so Non so Non so entrare In una cosa segreta Allora Quindi Questa stava qui E questa stava qua Eccoli lì I due segnalini Quei due segnalini Là sopra Sono le nostre pecore Quindi Abbiamo ora Una mappa E questa mappa Dobbiamo andare Qua sotto Ok Perfetto Barca già alla mano Andiamo Ok ragazzi Dato che Ero andato troppo giù Mi è uscita questa mappa Che però Poi la vado a mettere Non va Per niente bene E quindi L'ho dovuta rifare Ed ecco qui La conclusione Della nostra mappa Perfetto Questa Questa Me la tengo Me la metto da qualche parte Va Poi magari Modifichiamo Perché Qua sotto C'è il chiaccio Tonto 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 Ora 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 Andiamo a fare Una cosa Molto Molto Epica Ok ragazzi Sono in un luogo Sperduto E come vedete Ho già gli effetti Di qualcosa E questo qualcosa È meno infatico E forse avete già capito Sì Il tempio Adesso andiamo Andiamo in un nuovo Tempio E quindi Ci prendiamo Water Breathing E Night Vision No Prima ci avviciniamo E poi ce le Tiriamo Addosso Quindi ragazzi Andiamo a esplorare Questo Secondo Tempio Per chi Non ha visto La prima volta Che sono andato nel Tempio Andatelo A guardare Il video Perché È di un'epicità Immensa Quindi adesso Scusate 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 Se non vedete Niente Ma Sto cercando Di entrare Cacchio è vero Vai 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 Dentro Dentro Ok Night Vision Water Breathing Perfetto Siamo qui Siamo dentro Adesso Ok Davvero è già chiuso Ah beh Ah beh Cerchiamo subito I tre boss Così Da rompergli Il Culo E Sono qui nel Tempio Perché Volevo altre Spugne E dato che Nella prima volta Che sono andato Al tempio Non ho trovato La stanza Diciamo Dei tesori Dove appunto Posso Trovare le Sponge Vediamo un po' Se riusciamo a trovarlo In quest'altro Tempio Non ci credo L'ho già trovata Senza uccidere Il boss Però come faccio Non le posso prendere Adesso Sono lentissimo Cioè Devo per forza Uccidere i boss Quindi facciamo così Facciamo uno screen Alle coordinate Così Poi Ci ritorniamo No Ok Quindi Buono Cioè Ho appena detto La stanza delle sponge What the fuck E quindi adesso Ci tocca trovare i boss Tu non mi sparare Muori Ci tocca trovare i boss Vediamo un po' Dove sono Sotto Ecco il primo 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 Muori 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 Perfetto Sponge Droppata Perfetto Primo boss Trovato Ci mancano Due Ho visto una coda Ho visto una coda Ho visto una coda E quella coda era Del boss Tu muori Perché mi stai sulle palle Eccolo lì Il pesciolone Numero 2 Vieni qui Vieni qui Vieni qui Vieni qui Adesso devo trovare Il tuo terzo fratello Oh mortacci Vostri Ma che davvero Ma che davvero Ho preso anche la seconda sponge Manca Il terzo boss Quindi poi La terza sponge Così possiamo ritornare Nella stanza di tesori A prendere Le altre spugne Andiamo un po' Dov'è il terzo Mori 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 pure te Che è qua Si T'ha chiappo T'ha chiappato Quanto c'ho ancora? Due minuti e trenta E due minuti e quaranta Terzo boss Ripassato Bastardo Mari da domini Fatigue Qua aperto Oh Eccolo Madonna santa Mi hai fatto venire un colpo Perché Non pensavo fossi qui Mortacci sui Stava qua sopra Stava Ok Ritorniamo nella stanza Della Delle spugne Che stava di qua Cioè riesco pure ad orientarmi Vediamo un po' Si stava qua Stava qua Stava qua vicino Ok si Ce l'ho Ce l'ho Attenzione Attenzione ce l'ho Sta qua Sta qua Oh Volete Volete morire Non mi muoiono Qua stava Ecco la Mamma mia Orientazione Level 99999 Chiudiamo E aspettiamo Aspettiamo un po' Questi 3 minuti Di mini fatigue Ok ragazzi Mini fatigue È appena finita Quindi Prendiamo le sponge Come le prendo le sponge A mano A mano si Perché non ho Nessun accessorio Per prenderle C'avevo le cesuoglie Sembrano più veloce Ma Non sembrano Vabbè Noi ci Prendiamo Queste Bellissime Spugne E così possiamo anche Tornare a casa Davvero Davvero Epica Come cosa Ho trovato La stanza Quando Nella scorsa volta Nello scorso tempio Non c'ero Riuscito Anche se dico La scorsa volta Ma la scorsa volta Era L'episodio 102 103 Tipo Quindi Un po' di episodi fa Però almeno Ci Possiamo prendere queste E poi Off camera Tornerò Così mi prendo anche Qualche altro Materiale Perché Comunque Avevo finiti Quelli Del tempio Quindi Magari torno E prendo qualcos'altro Ok ragazzi Eccomi Tornato a casa Sono appena Arrivato E questo qui È il mio bottino 29 Sponge Che adesso Andiamo a Ehm A Dove Andiamo a togliere L'acqua Poi 8 pesci 34 Prismarine Shard Un Prismarine Crystal Un Prismarine E 4 Prismarine Prismarine Bricks Che andiamo A mettere What the fuck Ma qua non Ma qua non c'erano Degli Tenframe Una volta Mi sto sbagliando No Non mi sto sbagliando What the fuck Spariscono i tenframe Intanto Qua c'è il quarzo Pure Epic Ok Lasciamo i pesci qua E prendiamoci Le sponge Basta dire sponge Perché è la fusione Basta dirlo Ecco qua le altre tre Ah lol Qua avevo altre due mappe vuote Bene Vedi E' bello Arrivare Nelle chest Random E trovare le cose Che servivano nell'episodio Cioè è davvero bellissimo Prendiamo Queste Spugne E andiamo a metterle qua Perfetto Quindi ragazzi Mentre Le nostre Spugne Perdono l'acqua Diventano normale Io vi dico che Per questo Episodio Di minecraft vanilla È tutto Spero vi sia piaciuto Volevo Ritornare nel tempio Perché è una cosa Davvero molto epica Quindi spero vi sia piaciuta Quest'idea Quindi lasciate un like Commentate Condividete E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale La pagina facebook In descrizione Sito web in descrizione Instant gaming in descrizione Quindi Ciao a tutti da Bluelight